Dieci strutture disponibili in regione, due per provincia. Sono i numeri che descrivono il progetto studiato anche nelle Marche dei Covid Hotel, il quale permetterà a tutti i soggetti che necessitano di effettuare l'isolamento fiduciario al di fuori della propria abitazione e del nucleo familiare, di poter alloggiare in alcuni edifici selezionati in regione. Fondamentale, oltre alla collaborazione tra albergatori ed ente regionale, anche il contributo di Federalberghi ConfCommercio per l'individuazione delle strutture disponibili. Gli hotel candidati per far parte del progetto nella provincia di Pesaro-Urbino risultano essere uno in zona mare nel Pesarese, mentre l'altro è l'hotel Plaza di Fano, che è stato giudicato idoneo dall'Azur dopo il sopralluogo effettuato negli ultimi giorni. Questo è un albergo, non è un ospedale, quindi alcune precauzioni che io qui non tengo, ma in ospedale bisogna averle. A livello di personale come si sta organizzando? Diciamo, il personale è richiesto un office completo 24 su 24 e poi ci saranno delle persone che sposteranno, porteranno via dalle camere i rifiuti che loro magari accumuleranno durante la giornata. Quali servizi sono previsti per le persone che alloggeranno? I servizi sono l'installazione, colazione, pranzo e cena e per notamento. Questa situazione quindi sta per iniziare, poi appunto ci sarà un preavviso e per ora durerà fino a quando? Lì è previsto fino al 31 di dicembre del 2020. Quante camere verranno destinate agli ospiti del Covid Hotel? 16 camere occupate da una sola persona, indipendentemente dalla capienza della camera. Quindi gli ospiti avranno chiaramente l'alloggio e il vitto. Per quanto riguarda il vitto, come si sta organizzando? Rivolgendosi a quelle società che organizzano ristorazione per gli ospedali, grosso modo. Sa già come verranno serviti i pasti? Devono essere consegnati fuori dalla porta e poi useranno loro come consumarli, insomma. E noi dovevano, anzi sono delegati a consegnare i rifiuti una volta ogni due giorni e il cambio della biancheria una volta ogni cinque giorni, che però è delegato all'ospite, cioè noi non c'entriamo niente, noi dobbiamo prendere tutto da fuori dalla porta, insomma. Non devono essere comunicazioni tra noi e loro. Grazie a tutti. Grazie.